Ciao e benvenuto in questo nuovo video di Intanto in Thailandia Automobilista incastrato da una clip su Facebook diventata subito virale La clip della durata di circa due minuti mostra una Honda Accord bianca sorpassare tagliando la strada a un'altra autovettura Dopodiché il conducente della Honda inchioda, scende dalla macchina, ritorna in macchina, fruga nel cruscotto e torna fuori con una pistola in mano Si avvicina al conducente dell'altra autovettura, gridando e agitando la mano con la pistola La clip è stata pubblicata su Facebook dal conducente dell'altra autovettura, quello che è stato minacciato il signor Tum Natavit il quale ha dichiarato che tutto è successo solo per il fatto che dopo che il conducente della Honda gli aveva tagliato la strada lui aveva suonato il cracso Il signor Natavit si scusa per aver suonato il clacson e anzi, sempre su Facebook, dichiara che da questo momento in poi chiunque gli vorrà tagliare la strada sarà il benvenuto La clip ha suscitato pesanti critiche nei confronti del conducente della Honda e i vari commentatori del post chiedono alla polizia di prendere il provvedimento Bene, questa notizia finisce qua, ci vediamo al prossimo video